L'Istituto Comprensivo Francesco Crispi di Ribera, diretto dal Preside Emanuele Giordano con la docente di riferimento Antonella Martino, ha aderito ai giochi matematici del Mediterraneo, promossi anche quest'anno dall'Accademia Italiana per la Promozione della Matematica Alfredo Guido e patrocinati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Lo scopo dell'iniziativa è quello di mettere a confronto allievi di diverse scuole per stimolarli a gareggiare con lealtà nello spirito della sana competizione e sviluppare così atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica. Da sottolineare come questa importante competizione da quest'anno sia stata inserita tra le competizioni per la valorizzazione delle eccellenze del MIUR. Alla tredicesima edizione hanno preso parte tutti gli alunni delle classi quarte e quinte di scuola primaria e delle classi prime di scuola secondaria di primo grado del Crispi. Alla finale nazionale si sono qualificati gli studenti Lorenzo Lobue della classe quinta B primaria del plesso Cufalo e Olga Piraneo della classe prima B secondaria di primo grado sempre del plesso Cufalo. Finali che si sono tenute domenica scorsa presso l'Università degli Studi di Palermo che ha visto la partecipazione di 900 alunni provenienti da tutta Italia e anche dalla Croazia. In finale l'alunno Lorenzo Lobue si è classificato al decimo posto su 100 concorrenti nella categoria SP5 e secondo alunno siciliano arrivato quasi sul podio della classifica nazionale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.